Benvenuti a Genova sul 18, stiamo sempre con Marian, il nostro concorrente numero uno, dall'aria molto sveglia, e ora ci parlerà ancora di due o tre cose sue. Prego a te la parola, Petri, bravo ragazzo. E che cosa se sei così? Quello che vuoi. Poi mi devi provare, non fiava. Eh, perché te l'ho detto l'altra volta, vabbè, dicevi che vieni da molto lontano te? Sì. Da dove? Da di là. Da di là. E sono proprio da cazzo, io senza gente, io la faccio alla cura così lì. Ma hai qualche problema? Pensi che so avere dei problemi? Eh? Pensi che io abbia detto bene? No, chiedo, per sapere. Perché ti penso? No, no, no. Eh? Ma tutto bene? Eh? Ma nella tua non sono fatto proprio dei ragazzi, devo dire. Sì, sì, ma qualcuno. No, ma adesso lavori, te hai un lavoro. Eh? Sì, sì. Con la ragazza come va? Mi sembra che so quella ragazza. Magari può succedere. No. No? Allora, vabbè, niente. No, vabbè, ma cosa pensi del tuo futuro? Eh? Tu, cazzo! Cosa pensi del tuo futuro? Quasi, eh? Che cazzo tu. Eh? Secondo te cosa è? Eh? Sì. Eh? E' tutto ok. No? Allora, dimmi te, dimmi qualcosa te, la so cosa che da smart è farti. Mi mando a te a qualcuno. Ok, sì. Beh, cazzo, l'ha sentito tutti qua. Eh? T'ha sentito anche il colto Sardegna, t'ha sentito. No, ma... La famiglia, come sta? Sto bene? Eh? Sono tutti come te. Eh? Immagina. Te sono tutti come te, immagino, proprio. Ma che pensi che sei un coglione, eh? No, 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 no. Eh? Non penso proprio a quello. Perché ti faccio il culo, no? Eh? Ma no, ma comunque è una bella... Una bella intervista. Sto accorgendo, eh? No, chiudiamo la prossima puntata. No, ma per se? Facciamo un altro sketch. Beh, devo dire una cosa a lei. Dica che lei ha incontrato Lazy e Vex. Lazy e Vex. Siamo noi due. Lo dica, lo dica, lo dica, lo dica, lo dica, lo dica. Dica, ho incontrato Lazy e Vex. Ho incontrato Lazy e Vex. Grandissimo. Grande, grande, grande. E stiamo tutte e due qua. A prossimo. A prossimo. ... ... ...